Ciao a tutti ragazzi e finalmente siamo tornati a fare video! Allora, non credo che caricherò il video nello stesso giorno in cui lo sto registrando, comunque lo sto registrando sabato 5 luglio 2014, probabilmente lo caricherò domani, domenica 6, e oggi ho fatto il mio orale della maturità e quindi sono libero. È andato benissimo, ho passato l'esame tranquillamente e finalmente posso appunto ricominciare a fare video. Allora, quindi domani, che è domenica dal mio punto di vista, caricherò questo video e forse già lunedì inizio la prima parte del nuovo Let's Play. Allora, ho visto i giochi che mi avete consigliato e a inizio ho pensato di fare Chrono Cross, però è un gioco per PlayStation 1, quindi l'emulatore è un po' un casino da scaricare, da impostare, da prendere la roma e tutto. Quindi, prima faccio Cthulhu Stace the World, che è molto bello ed è anche molto breve, quindi lo finirò abbastanza velocemente e quasi sicuramente dopo vado con Chrono Cross. Quindi, domani, cioè il giorno dopo che esce il video forse arriva già la prima parte, poi ci sono delle cose che vi devo dire riguardo Unepic. Unepic, allora, due cose. La prima è, ho preso la versione di Unepic per Steam, perché visto che io l'ho comprata, ho comprato il gioco original e mi hanno dato gratis la chiave per scaricarlo. Quindi adesso io ho Unepic, sia la versione che ho giocato finora, sia la versione per Steam. Il punto è, sono già riuscito a trasferire i file, quindi volendo posso andare avanti anche con la versione su Steam. Il fatto è che la versione per Steam è più aggiornata, perché adesso quando aggiornano Unepic, aggiornano solo la versione per Steam, non aggiornano più la versione che sto giocando io. E hanno messo delle cose nuove, per esempio hanno messo le abilità con le armi, che sono abbastanza fighe. Però hanno cambiato un po' i dialoghi, perché essendo un gioco per Steam, non è meno volgare, comunque le volgarità ci sono comunque. Però hanno tolto alcune citazioni dirette ai videogiochi, per esempio adesso Daniel non dice più sull'Edge of Zelda ho ucciso tanti mostri, ma dice nel mondo dei videogiochi ho ucciso tanti mostri. Non dice più esplicitamente i nomi dei videogiochi, o perlomeno dei videogiochi più famosi come World of Warcraft, StarCraft o Zelda. Zeratul lo chiama Zera, ma appunto non lo chiama mai Zeratul. Nella versione per Steam già da quando lo incontra non dice mai il nome intero Zeratul, dice soltanto che è ispirato a un personaggio dei videogiochi. Però l'ha sempre chiamato Zera, anche qui questione di copyright. Quindi io dico, scegliete voi se... per me è uguale andare avanti con la versione per Steam o con la versione normale. Se vado avanti con la versione normale non ci sono più aggiornamenti, quindi non ci sono le abilità con le armi, non ci sono altre cose. Mentre se invece passo la versione per Steam perdiamo nei dialoghi tutte quelle citazioni dirette che ancora non abbiamo sentito. E i videogiochi, quindi potremmo esserci magari non censure però cambiamenti nei dialoghi. Vabbè, fate come volete ovviamente, quindi se preferite le cose nuove o se preferite i dialoghi con le citazioni dirette. Anche se non è una cosa molto importante, però boh, magari a qualcuno fa fastidio. Un'altra cosa sempre che riguarda Unepic, io che mi sto facendo un'altra partita, sto scoprendo un sacco di sfide alternative che con il file del let's play non ho trovato. Queste sfide alternative ti permettono di prendere dei punti con cui puoi comprare degli oggetti speciali che non puoi trovare altrimenti. Uno di questi oggetti speciali ti permette di resettare di nuovo le abilità. Il punto è che quando io ho iniziato il let's play non sapevo che cazzo faccio con i punti di abilità, quindi li ho spesi in modo bruttissimo. Poi mi hanno dato la possibilità nelle catacombe di rispondere di nuovo e li ho rispesi di nuovo malissimo. Cioè, ho fatto una cazzata con i punti di abilità. Quindi, forse, se riesco a completare tante queste sfide, forse resetto di nuovo i punti di abilità e li metto bene. Se li resetto, innanzitutto metto il massimo dei punti in costituzione, perché la vita massima io ci tengo che sia la più lunga possibile. Poi punti massimi in armatura, così posso prendermi le super armature cazzutissime. Poi, almeno, aumentare al massimo una magia. Io sto pensando a quello del fuoco, perché ci sono delle magie di fuoco abbastanza fighe. E almeno due armi. Io sto pensando alle spade, che sono armi che mi piacciono tantissimo. E alle asce, che sono potentissime e soprattutto ho tanti anelli che me le potenziano. Quindi, o forse, boh, poi vedo, il mio piano è questo. Quindi, probabilmente quando, se un giorno mi vedrete che ho abilità super fighe e armi strane, è perché, cioè, ovviamente vi avverto in anticipo. Comunque, quando finino abbastanza sfide, avrò ottenuto abbastanza punti, molto probabilmente compro a questo oggetto che mi ha risetti punti abilità. Perché voglio provare un'ultima volta a fare... farli bene, questi cazzi di punti abilità, che gli ho sempre fatti malissimo. Come al solito non ho moltissime cose da dire, quindi... termino qui. Ci vediamo domani con la prima parte di Crystal Save the World, che comunque è un gioco bellissimo. Lo trovate su Steam, è per PC. È anche... è molto bello, ma è anche molto, molto economico. Cosa soltanto 2 euro. Io lo consiglio a tutti, perché è bellissimo. A tutti quelli che capiscono l'inglese, perché è soltanto l'inglese. Ma domani lo vedrete, se non lo conoscete già. Quindi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se il video vi piacere, cliccate col pollicino che puoi dove salto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!